Prende ufficialmente il via il progetto turistico denominato Sicani Village, che riguarda da vicino la promozione e l'accoglienza in 29 piccoli borghi che ricadono tra le province di Agrigento e di Palermo, comuni che a sua volta fanno parte del distretto rurale di qualità dei Sicani. Nel dettaglio Sicani Village è una rete di cooperazione tra microimprese, associazioni, enti locali, operatori della filiera turistica, produttiva e di beni culturali, tutti impegnati nella creazione di un'offerta turistica di qualità attraverso la condivisione di strategie di promozione, marketing e accoglienza turistica. In provincia di Agrigento il Sicani Village riguarda da vicino i comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Ribera, Ioppolo Giancaxio, Siculiana, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Cianciana, Cattolica Ereclea, Cammarata, Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villa Franca Sicula, Santa Elisabetta, Real Monte, Alessandra della Rocca, San Giovanni Gemini, Montallegro, Castel Termini, Aragona e Raffadali. Si punta insomma sul turismo rurale, sfruttando le potenzialità di questi borghi, le tradizioni, i paesaggi, il folklore, i prodotti enogastronomici, gli allevamenti, l'artigianato e la loro storia. Un network quindi di in realtà tutte partner dell'iniziativa Turismo Rurale Esperienziare dei Sicani, sostenuta dall'Agenzia di Sviluppo Locale Gal Sicani. Si tratta di luoghi di eccezionale bellezza e biodiversità, tra passeggiate nella natura, assaggi di tipicità locali e incontri unici con chi ha scelto di dedicarsi con amore e dedizione alla protezione delle filiere. Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta a ripensare la fruizione dei piccoli borghi, un'immersione autentica nei piccoli centri all'insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita.